Un uomo straordinario, Gustavo Rohn, veramente emozionante. Con questo ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, andavo spessissimo da lui. Era un signore di Torino, di buonissima famiglia, molto cristocratico, che fin da ragazzo aveva delle doti straordinarie, dei poteri, tanto che la madre, quando se ne accorse, aveva 5-6 anni, che faceva delle cose strane, la madre voleva assolutamente distrarlo da quella strada lì, non voleva che crescesse sviluppando. E la sfulla sorella invece, che disse alla mamma, 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 un tesoro, è un regalo di Dio avere un fratellino così. No, 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 farlo, farlo tranquillo. E lui è cresciuto con questa tranquillità di possedere dei poteri immensi, incredibili. Poteva fare tutto quello che tu sogni di fare con te stesso, con la tua mente. Lui aveva scoperto che noi non adottiamo correttamente il nostro cervello e i mezzi che la nostra mente riceve dal creatore. Che ne dobbiamo solamente il 25%. Il 75% è una zona inerte. E cos'è questa zona inerte? Perché abbiamo un cervello così grande, se poi ne dobbiamo solamente un quarto? Perché l'uomo in realtà lo adoprava tutto in origine, con forse un terzo di meno perché ogni organo ha un terzo di riserva. Ma il 70% del cervello veniva adoprato. C'erano poteri, l'uomo aveva poteri straordinari. Che sono poi quelli, per esempio, di certe figure molto interessanti, anche della vita spirituale. Anche primi di va, sciamani. E Gesù era uno di quelli. Infatti Gesù non voleva assolutamente chiamarselo l'uomo dei miracoli. Perché faceva semplicemente le cose... Cambiava l'acqua in vino. I pesci e i pani che arrivavano. Era, spiegò lui, trasporto di materia. Cioè quella materia è altrove. Tu hai il potere di attrarla e farla venire al posto di quest'altra materia. Del vino che era in qualche cantina, in qualche ora, che veniva a Cana, al posto dell'acqua. Lo stesso i pani e i pesci. C'erano dei cesti vuoti. E semplicemente gli spiegava lui. Quei pesci lì c'erano altrove. E lui aveva il potere di raccogliere questa materia fatta pesce, un'altra fatta pane, e offrirla. Gesù è pieno di queste... E Rol faceva queste mesi. E Rol faceva quello e altro. Vi chiedo una domanda, scusi, è provocatoria. Che differenza c'è tra Gesù Cristo e Gustavo Rol? No. Gesù Cristo è un'entità divina. Che si è fatta uomo per identificarsi nei nostri dolori, nella nostra passione, tragedia, eccetera, umana. Perché per dare una speranza all'uomo, che attraverso la morte c'è un'altra vita. Quindi si parla di un'altra dimensione completamente. E la creatura, e anche l'uomo straordinario, che si è mai gestito. Basta leggere il discorso della montagna, basta quello lì per dire, basta, fermiamoci, e abbiamo capito tutto. Lui era infatti cattolicissimo, perché era un uomo che andava agli ospedali, passava le mattine all'ospedale, anche lui a assistere i moribondi, e a aiutare il loro trapasso. E poi si divertiva con gli amici la sera, a fare degli scherzi incredibili, insomma, a un certo momento, mazzi di carte, per esempio, quelli sono come scherzi. Ancora nel cielo fanno 3-4 mazzi di carte, e prendeva uno, a me dice, sceglie una carta. Io sceglie una carta, una donna di cuore, la metto dentro, e lui prende per le mie mani, apre questo mazzo, erano tutte donne di cuore. Ci scherzetti, ma divertenti, fino a un certo punto. Una curiosità, lei che lo ha conosciuto, secondo lei, questi poteri, sono il dono per pochi, o sono una potenzialità per tutti? Per tutti, ti racconto l'episodio e poi basta. Quando facevo partigiano, nell'inverno del 44, dovemmo scappare, perché le SS fecevano una grande retata, e circondarono completamente la zona del Falterona e dell'Appennino Tosco-Romagnolo, pieno di boschi, eccetera. Dove io sono stato allattato, poi la mia baria stava in un paese di vicino. Insomma, febbraio 44, durante la guerra, oscuramento, non c'era una stella in cielo, non un lume, nero velluto, velluto nero. Noi camminavamo di notte, perché di giorno ci nascondevamo, perché c'era il tedesco intorno, per andare da una strada all'altra, avvicinarsi alla nostra destinazione. Di notte, al buio completo. E io ho sentito, dentro di me, risorgere, non potere, una capacità, di vedere un tronco prima di batterci la testa, di evitare una pietra, di arrivare sul ciglio di un burrone. Cioè, ridestavo, questa capacità di vedere, senza il concorso di quella, quello strumento che l'uomo ha creato, rovinando questo dono che aveva. L'uomo poteva vedere al buio, invece, adesso non ci vede, accendere una torcia, una candela, una lampadina. Quindi la necessità, le ha riacceso una potenzialità, che era lì sedata. un po' di rispondere alla tua domanda, se io, se noi abbiamo, ma, in continuazione, ci insegnava, ognuno di noi, se puoi, se ci puoi, se ci pensi, ha queste facoltà, sopite, che ogni tanto si risveglie. In alcuni personaggi, addirittura diventano, la loro caratteristica principale, ci sono quelli che si bugano di qua e di là, senza lasciare tracce, prego.